La prima cosa con cui lei ha aperto questa conferenza stampa è stata questa carta famiglia, questa qua, che cos'è? Questa è una carta che verrà recapitata a 5.700 famiglie rettine che hanno da due figli in su e il risultato di un accordo con le categorie economiche e con i singoli esercenti, con le farmacie comunali per cui chi è una famiglia tra virgolette numerosa può in qualche modo avere un acquisto facilitato. Questo è il compimento di un percorso, questo è se vogliamo estetico come risultato, ma è di contenuto, di un'idea che ci ha portato fin dall'inizio a vedere nelle famiglie, in ogni singola famiglia di questa città, un punto di sviluppo e soprattutto che ci porta a dire che la famiglia ha ricchezza e che la ricchezza va aiutata perché possa produrre alta ricchezza. Lei è stata additata all'inizio del suo mandato perché era l'assessore che chiudeva il dormitorio. Come si è sviluppata questa vicenda? Questo è uno dei risultati credo più veri e più forti che abbiamo ottenuto. Oggi questa è una città che, numero uno, non vede più un residente della città di Arezzo necessitato ad andare al dormitorio perché tutti quelli che sono residenti hanno avuto una risposta diversa che non è uno stanzone, ma è un appartamento, ma è una casa, ma è un'accoglienza. Due, il dormitorio sta aperto un po' più tempo, grazie a Caritas, sta aperto nei locali dell'amministrazione comunale, ma sta aperto per quelle persone che transitano in questa città, perché per chi questa città la vive, per chi questa città la scelta, per chi questa città la ama, la risposta è diversa. Sono le residenze invernali e gli appartamenti di accoglienza. Era facile dire di sì, ma nelle politiche sociali bisogna avere la capacità di fare cose giuste, non cose buone, perché poi quelle giuste diventano buone. Il dormitorio aperto H24, 365 giorni l'anno, era la risposta di chi non voleva fare un progetto. La supermenza però non sa da fare. No, la supermenza nel piano delle opere pubbliche è stata approvata. Noi oggi facciamo un percorso di adeguamento di un servizio. Noi oggi offriamo la riflessione scolastica in menze piccole, che non fanno quel percorso di sicurezza al 100%, lo stanno facendo grazie al lavoro degli operatori, ma dopo 40 anni nessuno può pensare di non cambiare un sistema. Transmigreremo nel giro di 3-4 anni verso l'idea non di un'unica mensa, ma di quattro mensa al posto delle 12, di cui una di nuova generazione che per esempio ci permetterà di fare menù differenziati, ma soprattutto, io questo lo sottolineo sempre, ci permetterà di fare menù differenziati per i bambini e le bambine che hanno delle allergie. Gli stati generali della sanità, un fallimento, un punto comunque per battere il pugno, però evidentemente forse non abbastanza forte, oppure per mettere un punto e proseguire un cammino? Un successo, perché oggi molti esponenti del PD che questa riforma l'hanno voluta, l'hanno votata, l'hanno sostenuta, dicono che non funziona, quindi io sono contenta. Poi mi ricordo che la mia nonna diceva che chi fa i guai non li rimedia. Quindi che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo portato il tema della sanità da un punto scuro dove nulla si capiva ad una piazza pubblica, dove tutti possono avere la percezione di vedere quello che succede. La sanità toscana è una sanità che funziona grazie ai professionisti, ma che sta andando verso un sistema fallimentare per colpa di un'organizzazione sanitaria che ha voluto Regione Toscana, che ha messo Arezzo insieme a Grosset e Siena, così come ha fatto per il nord e per l'incentro, ha costruito delle asle mostruose, inefficaci, inefficienti, dove il personale viaggia come se fosse Gulliver da una parte all'altra della regione, togliendo risorse e soprattutto facendo quella che io chiamo la media la meno. Cioè se Grosseto soffriva e Arezzo andava un po' meglio, adesso Arezzo soffria a Grosseto e non Grosseto ad Arezzo. Questo è un sistema che va superato, è un problema regionale. Ripeto, sono molto contenta che oggi tutti dicano che non funzionano, però per queste persone è un po' come il gioco dell'oca, sono nella casella dove devono stare fermi un giro.